amici di motosport.com ciao a tutti si sono concluse le qualifiche del gran premio del brasile qualifiche svolte al venerdì qualifiche non concluse perché è arrivato un colpo d'acqua veramente molto forte si è oscurato il cielo di interlagos e addirittura sembrava notte tanto che la direzione gara dopo il primo stint della q3 ha deciso di esporre la bandiera rossa pole position di max verstappen e qui non c'è niente di nuovo sarà lui a partire domenica in testa al gran premio però in prima fila c'è la ferrari di charles clerk per commentare questa sessione per cercare di analizzare quello che sta succedendo c'è il nostro esperto di tecnica giorgio piola ciao giorgio ciao franco ciao a tutti allora cosa ti ha colpito di questa qualifica ebbene le macchine vicinissime una proprio in una manciata proprio di decimi tutti quanti poi con queste condizioni atmosferiche si gioca anche un po come alla roulette perché è tutto imprevedibile stato bravissimo first up perché ha subito sfruttato le possibilità metereologiche anche alle clerche andata molto bene una ferrari quindi che si parte in prima fila quindi è di buon auspicio e invece sfortunatissimo mi dispiace questa volta eh Sergio Perez perché stava facendo un ottimo tempo e invece con l'uscita di eh della McLaren di piastri ha dovuto tirare sul piede quindi è rimasto indietro però una qualifica emozionantissima strolla sorpresa perché sembrava attraversare un periodo di crisi ma devo dire che stranamente lui quando ci sono condizioni difficili viene sempre fuori quasi tutte le sue migliori prestazioni sono state sempre con condizioni climatiche difficili e questa volta è stato bravo davanti al suo compagno di squadra e poi qui bisogna dire in queste condizioni bisogna avere anche come ho detto all'inizio molta fortuna allora Giorgio eh di solito noi facciamo una analisi tecnica delle novità qui siamo alla terza gara di una triplice e quindi dopo Austin dove abbiamo visto diverse novità dove eh hai avuto modo di raccontare gli ultimi sviluppi dopo il Messico eh arriviamo a una trasferta dove praticamente nove squadre su dieci non avevano novità sì devo dire lo immaginavo tant'è vero che come vedi sono a casa mia me la sono evitata mi sono fatti quattordici giorni bellissimi perché devo dire anche in Messico è stato molto importante abbiamo visto cose molto interessanti e poi un pubblico eccezionale quindi due gran premi molto molto interessante da questo punto di vista qui c'era soltanto un ala anteriore della AST tutte le vetture abbiamo visto il report tecnico della federazione e sappiamo benissimo che per regolamento le squadre non possono nascondere novità tutte le altre squadre nessuna novità nessuna novità nessuna novità tutti dei bei fogli bianchi quindi eh ho fatto bene a non andare laggiù e rimanere qui e preparare magari qualche cosa di più interessante nei prossimi giorni che impressione ti fa vedere questa griglia perché io sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio dalla Mercedes che alla resa dei conti piazza Lewis Hamilton al quinto posto davanti a eh George Russell per l'ennesima volta sì come ho detto prima c'è c'entra anche molto l'azzardo la fortuna perché ci aspettavamo qualcosa di più anche dalle McLaren e queste purtroppo la gara sprint racchiude un po' tutto troppo in fretta non si riesce a preparare le macchine bene poi qui ci si è messo la condizione climatica al tempo non è la prima volta che in Brasile eh vediamo delle qualifiche stranissime questa volta almeno i valori diciamo importanti sono stati rispettati no con eh Ferstappen e Leclerc in in prima fila ma spesso abbiamo avuto anche delle grossissime sorprese di monoposto in prima fila o in pole position che non erano del tutto prevedibili se non in condizioni climatiche così strane eh ricordiamo ancora che l'anno scorso sempre con la situazione della della gara sprint la Red Bull invece andò pazzescamente in crisi e regalò praticamente la la vittoria alla Mercedes vittoria che credo fosse se uno andasse a pensare tantissimo forse l'hanno fatta apposta perché così la Mercedes ha creduto di poter conservare quella monoposto che era sbagliata e la vittoria ne ho parlato fra l'altro senza rivelare nome perché quando facciamo queste chiacchierate confidenziali non mi piace dire chi ma un ingegnere importante della Mercedes che disse sì col senno di poi quella vittoria ci ha fatto più male che bene perché eh non abbiamo buttato eh nel cestino quella monoposto che ha completamente sbagliata Ah beh eh il risultato l'abbiamo visto in questa settimana con Mike Elliot CTO della Mercedes che dopo dodici anni di permanenza nella squadra di Brackley di fatto è stato accompagnato alla porta con tutti gli onori e le fanfare però è stato messo fuori dal sistema di lavoro che adesso è tutto in mano a James Allison e James Allison ha già fatto capire in modo molto chiaro che la macchina il prossimo anno non avrà niente in comune con quella che ha corso fino ad oggi quindi eh credo che la tua analisi riferita l'anno scorso mi sembra quanto mai chiara e eh tira i fili in un'unica chiara direzione però ti devo dire la verità mi aspettavo qualcosa di più dalla Mercedes è vero le condizioni eh è una macchina in lotta con la Ferrari per il secondo posto nel mondiale costruttori ha 22 punti di vantaggio eh Leclerc è secondo eh Hamilton e Russell sono quinto e sesto Sainz è ottavo quindi c'è di nuovo una una partita molto diversificata per quella che sarà eh la battaglia dei punti. Sì da da rilevare però tra tra le cose tecniche che appunto non ce n'erano c'è stata quella piccola curiosità di nuovo dei filetti di lana applicati a questa volta l'ala posteriore della Mercedes mentre eh in Messico li abbiamo visti applicati nelle parti eh laterali del fondo della vettura segno che si sta cercando di raccogliere dati si sta lavorando tanto per il prossimo anno ecco questo sempre in direzione di di quello che James Allison dovrà fare per la prossima stagione e io sono convinto che la Mercedes il prossimo anno dovrebbe essere abbastanza competitiva. Ecco un altro dato curioso interessante Giorgio è come i motoristi in questa stagione stiano riuscendo ad arrivare in fondo eh con quattro motori perché finora di di morire non ne abbiamo viste eh di sostituzioni preventive nemmeno eh all'inizio della stagione c'eravamo posti qualche dubbio sulla capacità del motore Ferrari di durare perché c'erano state delle rotazioni molto anticipate e invece anche la squadra di Maranello mi sembra che stia mantenendo quello che è la sua pianificazione e questo mi sembra un dato eh mancano ancora due gran premi oltre a a Interlagos e quindi dobbiamo ovviamente sospendere il giudizio però l'orientamento mi sembra molto chiaro che il lavoro sulla fidabilità è stato fatto bene da tutti quanti. Sì sì veramente è lodevole perché io mi ricordo in passato adesso non praticamente non non a parte l'Alpin non ci sono quasi mai cedimenti di motore e riescono a fare tutta una stagione così lunga così logorante e con senza dover ricorrere a penalizzazione e quindi questo è un fatto molto importante ne ho parlato anche fra l'altro con Alia Nui in Messico eh facendo notare quanto lavoro abbia fatto di positivo anche la Honda perché se ricordiamo nella passata stagione all'inizio c'era stato qualche problema di affidabilità anche se non solo di motore però impianto idraulico cose del genere invece quest'anno la il motore Honda non ha mai dato nessun problema il raffreddamento della eh Red Bull è estremo eh lo abbiamo visto anche le forme dei dei radiatori stranissimi che tutto contento Adrian era quasi contento che non li avessimo scoperti come per dire vedete che cosa facciamo di strano e non fuori dalle righe no? E e quindi... Fai una curiosità visto che tu quando lo incroci e ti dà udienza poi lui tende a non andarsene più tant'è che quelli della squadra lo vanno a cercare pensando che sia... Ah è stato buffissimo! Eh dammi un po' una chiave della sua visione di questa RB19 c'è davvero un segreto secondo te parlando con lui o è l'analisi dei mille micro approfondimenti fatti sui singoli particolari? No con lui ho parlato proprio di 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 una cosa che poi voglio fare le macchine cosiddette Mindstone pietre migliari e io indicavo una delle ultime la la RB5 e lui quando gli ho detto questa come la considera? E lui dice questa la considero quella più vincente delle monoposto ma se la se dovessi dire una pietra migliare è quella dell'anno della passata stagione perché nella passata stagione ha introdotto tutti i concetti nuovi questa lo abbiamo rilevato anche franco ti ricordi sin dall'inizio ha confermato che l'intuizione di aver stretto il telaio ancora maggiormente rispetto a quella della stanza dell'anno scorso che avevamo avuto sin dalle prime immagini era proprio uno degli elementi chiavi e praticamente ha detto questa monoposto è uno sviluppo estremo non può essere chiamata pietra migliare ma ovviamente della macchina della passata stagione ha quasi soltanto le sembianze poi tutti i particolari sono stati estremizzati migliorati e e credo che voglia continuare su questa direzione e quindi il prossimo anno eh perché a un certo punto gli avevo detto che che mi volevo ritirare il prossimo anno anche perché incomincio a avere sempre meno capelli e a stancarmi sempre di più e lui mi fa ma no non ti dico guarda se fai una macchina ancora migliore di questa rimango lui mi fa allora stai sicuro che rimani quindi credo che il prossimo anno la rebus sarà di nuovo una macchina estremamente competitiva e lo si vede dalla sua mania di 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 migliorare sempre qualsiasi dettaglio in brasil hanno fatto in messico hanno fatto anche quell'esperimento sui freni quindi eh si va sempre non sta mai non si ferma mai e migliora sempre ecco un'altra cosa che dice io sono convinto che gli altri cercheranno di raggiungere forse raggiungeranno i valori di questa RB19 ma ovviamente noi saremo andati un passo avanti e questa è un po' la filosofia della sua. Allora amici di motosport.com eh se siete ferraristi mi sa che dovete riporre le speranze perché Andrea Newy ha già dato un chiaro inquadramento di quella che sarà la stagione 2024 queste sono le grandi opportunità che eh ovviamente Giorgio ha eh avendo un rapporto personale con questi grandi personaggi della Formula 1. Volevi aggiungere qualcosa Giorgio? Sì che in tutto questo perché raccontandola così sembrerebbe così adesso mi viene da usare un termine brutto che Adrian facesse il gradasso o o o o che Milan da ma invece vi assicuro che forse il progettista più low profile più più semplice per niente presuntuoso per niente arrogante e quando dice dice le cose proprio essenziali in maniera semplice quindi non non c'è nessuna campagna pubblicitaria purtroppo quello che dice quasi sempre tutto fuoco e niente fumo. Ecco faremo ascoltare questo video ai signori team principal e ai direttori tecnici delle altre squadre così gli verrà un po' di mal di testa. amici motosport.com commentate qui sotto fateci sapere cosa ne pensate cliccate in alto a destra e iscrivetevi al canale di motosport.com così riceverete le informazioni dei prossimi video che andiamo producendo. Io a questo punto saluto Giorgio dopo il vaticiglio sulla Red Bull e ci sentiamo quanto prima per le analisi del Gran Premio del Brasile. Ciao a tutti. Ciao buona serata a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.